Musica Tre interventi a favore del sistema economico toscano a sostegno di imprese e comparti più colpiti dall'emergenza da Covid-19, il primo a favore degli operatori del sistema neve, poi un contributo straordinario per quello del design e infine risorse per la completa realizzazione degli interventi di miglioramento nella fruibilità dei cammini regionali. Si, si tratta di una norma che abbiamo accelerato poiché in particolare sul sistema neve dove si stanziano 800 mila euro vanno proprio a compensare quel sistema neve che ha sofferto anche a causa della pandemia per la chiusura della stagione. Quindi queste somme per investimenti serviranno tutti i gestori a tutto quel sistema che ha sofferto pesantemente in questi anni. È una somma cospicua che speriamo vada a sollevare le sorti di queste aree e l'abbiamo fatto in modo da poterne beneficiare entro fine anno, altrimenti si sarebbe scavallato poi l'anno. È uno degli aiuti, dei sostegni più grossi di questi ultimi mesi. Insieme a questo si affianca il sistema del design, quindi 150 mila euro che derivano da un accordo nazionale fatto con il Ministero degli Affari Esteri, con il sistema delle Camere Esteri, con l'Università di Architettura di Firenze e sono risorse che serviranno per l'internazionalizzazione, quindi individuando un centro che fa da incubatore, una sorta di incubatore per tutte le aziende sull'internazionalizzazione legata appunto al design e al sistema del mobile. L'ultimo ambito in cui abbiamo stanziato le risorse sono circa 230 mila euro, si tratta dei cammini. Erano risorse che erano rimaste parzialmente utilizzate, quindi c'era necessità da parte di molti comuni di avere queste risorse per poter continuare o terminare i lavori infrastrutturali, quindi si tratta sempre di investimenti sui cammini presenti in Toscana, voi sapete che ce ne sono tantissimi. Oltre un milione di euro di risorse importanti per i settori produttivi della Toscana e in particolar modo riguardano il settore sciistico, gli impianti, la neve ha sofferto, la montagna in un momento così delicato, 800 mila euro, uno stanziamento importante per andare a rifinanziare gli impianti, se penso anche al territorio di Siena, di Pistoia, le montagne della Toscana principali e non solo. Ovviamente risorse importanti per quanto riguarda il design, il mondo del mobile, il centro sperimentale del mobile di Poggi Bonzi è un'eccellenza, ormai a livello nazionale sarà volano dello sviluppo, del design, dell'arredamento per quanto riguarda la Toscana nel mondo con un finanziamento straordinario di 150 mila euro e poi oltre 200 mila euro a favore dei bandi, dei finanziamenti per quanto riguarda legge sui cammini per quei progetti che i comuni avevano presentato ma non erano stati finanziati. Fratelli d'Italia abbiamo sollecitato in questi mesi, ormai da un anno, un'attenzione particolare alla montagna che ha sofferto tantissimo, più di altre zone, il lockdown e la pandemia. Due inverni di fatto chiusi avrebbero troncato le gambe a tutti, nonostante questo la montagna è riuscita ad andare avanti, ecco questo contributo aggiuntivo in parte risponde alle sollecitazioni che come Fratelli d'Italia abbiamo mosso in questi mesi e nell'ultimo anno, pensiamo che si possa fare ancora di più ma comunque è intanto una prima risposta che viene dalla regione. Quello che chiediamo è che si faccia attenzione su chi sono i destinatari di questi contributi. Ci sono imprese strettamente legate alla stagione sciistica, strettamente legate alla cosiddetta industria della neve che sono rimaste chiuse e che hanno perso il 100% dei loro profitti. Ci sono altre attività magari in zone più marginali che vengono definite montagne soltanto sulla carta che hanno avuto difficoltà ma non del 100%, quindi noi vigileremo su quelli che saranno destinatari di questi contributi, soprattutto cercheremo fin da domani di intervenire sulla regione per alzare i massimali perché 10.000 euro a impresa sono una cifra troppo piccola per quanto ci riguarda e quindi cercheremo di intervenire in quella direzione. È stato un curioso provvedimento, Pott Purri lo chiamerei, che mescolava tre argomenti completamente diversi, cosa che anche la tecnica legislativa sconsiglia. Un aspetto, un breve flash su ciascuno degli argomenti. Il settore neve sicuramente merita sostegno, però attenzione perché ogni anno, da quando almeno io sono all'interno del Consiglio, quindi sono sei anni, vengono presentati dei contributi, una tantum al sistema neve e è l'ora, credo, a questo punto di cercare di promuovere una diversificazione anche del tipo di turismo e delle attività che vengono fatte perché altrimenti si rischia di rincorrere sempre di più i proventi mancati di una stagione sciistica che per il clima diventa sempre più corta. I cammini regionali anch'essi hanno ricevuto negli anni spesso dei contributi e è giusto continuare a darli perché i cammini sono sicuramente una risorsa per il turismo lento in regione toscana che è valorizzata, pensiamo al cammino di Santiago di Compostela, può essere una grande risorsa sotto tanti profili, però bisogna anche vedere come vengono spesi questi soldi perché appunto questo non è certo il primo contributo. Assolutamente spiegabile il contributo al centro sperimentale del mobile della provincia di Siena, 150 mila euro per un progetto di internazionalizzazione che in pratica non verrebbe nemmeno attuato dallo stesso centro ma verrebbe in pratica appalmatato all'università e soprattutto non si capisce l'arbitrarietà con cui è stato scelto di promuovere quel distretto piuttosto che altri. Cascina, la mia città e Perignano, altre zone pisane hanno dei centri di assoluta eccellenza, lo stesso posso dire di Quarrata, di mille altre attività toscane di artigianato e di eccellenza da internalizzare. Internazionalizzazione che tra l'altro fa già la Camera di Commercio e fa già la regione Toscana con le sue agenzie? Siamo innanzitutto di fronte a un provvedimento che dal nostro punto di vista pecca per quanto riguarda appunto lo stile quantomeno della normazione. Si è cercato di fare un unico calderone mettendo insieme settori diversi. Dal nostro punto di vista è chiaro che in questo momento in particolare ogni forma di sostegno economico che appunto si è messo in campo dalla regione su certi tipi di settori ci vede favorevoli. Dall'altra però non possiamo che censurare questo tipo di frenesia normativa, mettiamola così. Da una parte sostegno al sistema neve, dall'altra ci mettiamo anche dentro il sostegno al settore del mobile e infine riusciamo a ritrovare alcune risorse per sostenere i cammini, quindi i progetti sui cammini dei comuni. È chiaro che di fronte diciamo a questo stile normativo ecco occorreva a nostro avviso una maggiore organicità anche perché altrimenti si perde quell'intento che può essere sicuramente condivisibile di sostenere determinati settori. Qui è mancata diciamo una certa organicità. Sostenere il progetto di Volterra Città Toscana della Cultura 2022 anche economicamente. Questo è l'impegno chiesto alla Giunta regionale in una mozione presentata dai consiglieri regionali del Partito Democratico. Io ho presentato una mozione proprio su Volterra Città Toscana della Cultura per il 2022 perché abbiamo apprezzato tantissimo l'idea, la proposta del Presidente Gianni, fra l'altro condivisa dal Ministro Franceschini che pochi giorni fa è venuto proprio a Volterra in visita, di fare di Volterra la prima Città Toscana della Cultura. Un progetto che dovrebbe avere, che avrà una durata almeno decennale. Perché Volterra? Perché Volterra ha già fatto un lavoro straordinario predisponendo quel progetto Rigenerazione Umana che gli ha consentito di entrare fra le dieci finaliste nel percorso verso la capitale italiana della cultura. perché sicuramente il progetto è bello, ha coinvolto tutta la città, tantissimi giovani, necessita delle risorse perché possano essere avviati i progetti previsti per il 2022, fra cui uno per tutti è la straordinaria mostra sul Rosso Fiorentino, l'opera del manierismo toscano risale al 1521 che è in fase di restaurazione presso la Pinacoteca di Volterra. Ci sono due proposte di cui io sono il primo firmatario, altre due presentate dalla Giunta che prevedono l'istituzione della capitale toscana dello sport e della capitale toscana della cultura. Ogni anno un bando per selezionare quale città dovrà avere questo titolo che sarà un titolo prestigioso. Per il 2022 però entrambe le proposte, sia quelle sottoscritte dal sottoscritto che quelle della Giunta, prevedono di dare a Volterra il titolo di capitale toscana della cultura e da Betone Cutigliano il titolo di capitale toscana dello sport. Volterra per meriti, per quanto ha fatto di buono rispetto alla selezione nazionale, a Betone Cutigliano anche in questo caso per merito. Voglio ricordare che il 2022 è il settantesimo anniversario dalla vittoria olimpica di Zeno Colò in discesa libera, l'unico italiano ad aver vinto una medaglia d'oro all'Olimpiade in discesa libera, ma anche come segno di ristoro rispetto agli ultimi due inverni che sono stati tragici con la montagna chiusa e quindi perdere anche questo segno di ripartenza. La quarta parte delle risorse derivanti dai contributi geotermici e destinata ai comuni geotermici sarà loro assegnata direttamente. Lo stabilisce una norma transitoria. È una norma transitoria perché la regione sta già lavorando e ci siamo dati un tempo al 31-12-2022 per ragionare con COSVIG che è la società che si occupa delle riscossioni in auso, quindi far sì che ci sia una società gestita dalla regione toscana. Il tempo per gli approfondimenti necessario è un tempo piuttosto lungo, quindi si parla come dicevo del 31-12-2022. Nel frattempo la norma transitoria consente a quei comuni di poter beneficiare ugualmente delle risorse derivanti dalla geotermia. Sono due ambiti molto importanti nella nostra regione perché sia quello della Val di Cecina sia quello della Miata sono due aree interessate che garantiscono alla nostra regione il 30% della energia sul nostro territorio e questo potrebbe anche essere ampliato. È chiaro che qui in prospettiva dobbiamo anche fare un lavoro insieme positivo perché la gara che dovrà essere prevista per il 2024 e se non si riesce a fare una gara magari avere una proroga sicuramente le concessioni devono essere, devono avere una continuità perché questo settore possa andare avanti e anche perché no crescere e svilupparsi visto quello di cui stiamo parlando con le energie rinnovabili in Toscana. Sicuramente noi abbiamo una ricchezza molto importante e ne parlavo anche con il sindaco Vagaggini Piancastagnaio piuttosto che con il sindaco Ferrini della Castelnuovo Val di Cecina. Due aree molto importanti dove devo dire che tutti i sindaci sono uniti. È una battaglia comune anche per noi qui in consiglio regionale. Allora si è trattato della questione del COSVIG e dei contributi che in questo passaggio mancante per adesso verrebbero versati ai comuni in attesa che COSVIG diventi un in-house della regione toscana e devo dire che questo argomento è arrivato nella seconda commissione in maniera piuttosto improvvisa in quanto l'argomento dell'energia atteneva la quarta commissione fino alla scorsa legislatura e perciò per noi è stato un argomento nuovo e non è stato neanche analizzato all'interno della commissione all'interno della quale io stessa lavoro e questo secondo noi è un passaggio grave che manca e soprattutto anche perché bisogna capire quale sarà il lavoro del COSVIG, le attività che faranno, quanto impatterà nel bilancio perché la geotermia bisogna dire chiaramente una cosa. C'è un tipo di geotermia che aiuta l'ambiente, quella bassa entalpia, quella delle piccole impianti compresi quelli domestici e sono sicuramente una grandissima risorsa e questa va sfruttata. Ci sono quelli invece che fanno geotermia, un tipo di geotermia che è speculativa, che il guadagno è soltanto sugli incentivi che vengono presi dal governo. Quella va evitata e soprattutto bisogna fare molta attenzione alla geotermia perché a seconda delle zone geografiche su cui essa è presenta problematiche differenti. In alcuni casi è completamente innocua anche dal punto di vista ambientale, in altri casi come sulla miata abbiamo visto aver dato anche gravi problemi su cui uno studio, lo studio in vetta, aspetta ancora di vedere alla luce i risultati per capire davvero quale ne sia l'impatto. Opportunità agli colleghi di dare un po' il meglio di quelle che sono le proprie conoscenze in ambito di progettazione, quindi per provare a fare dei nuovi interventi che siano in questo caso premiati e valorizzati sul territorio della nostra regione. Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna il premio Architettura Toscana, occasione per stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea protagonista delle trasformazioni del territorio. La presentazione della nuova edizione in consiglio regionale, le iscrizioni si apriranno il 3 dicembre per chiudersi l'11 febbraio, poi a giugno il verdetto della giuria. Da settembre 2022 i lavori saranno esposti in tutta la Toscana. Il premio non dà nessuna linea di indirizzo, dà solo delle categorie che sono opera, sono la categoria nuova costruzione, la categoria per restauro e recupero, allestimento e opere di interni, spazi pubblici, paesaggio e rigenerazione e la categoria opera prima che è la categoria per i giovani architetti sotto i 40 anni, che è una categoria onnicomprensiva e che è l'unica categoria che ha un premio di 5.000 euro. In denaro, le altre sono solo di prestigio. A promuovere il premio accanto al consiglio regionale, gli ordini degli architetti di Pisa e Firenze, la federazione degli architetti della Toscana, la fondazione architetti Firenze e Ance Toscana. Ance rappresenta le imprese, le imprese che assieme alla committenza e ai progettisti sono la parte fondamentale della catena del costruire, soprattutto della qualità del costruire, che credo che mai come in questo momento ci si sia accorti dell'importanza anche della qualità del costruire, che viene chiaramente dopo una qualità del progetto. Grazie Grazie Grazie